Sono state diffuse le nuove linee guida della chirurgia della cataratta nella seconda giornata del congresso digitale SOI della Società Oftalmologica Italiana, come spiega il presidente SOI, professor Matteo Piovella. Risultato impressionante, abbiamo superato le 1700 presenze, non ci capitava neanche al secondo giorno in epoca pre-covid. Sapete forse la motivazione è importante perché abbiamo discusso e diffuso le nuove linee guida della chirurgia della cataratta, il nostro intervento di punta che viene utilizzato da tutti i pazienti. Oggi siamo in grado, e questo è di grande soddisfazione, a permettere alle persone che si sottopongono a questo intervento di guidare la macchina e leggere il giornale senza più dipendere da una correzione, riuscendo anche a correggere i difetti che uno ha portato per tutta la vita. Sono risultati che, perdonatemi, voglio testimoniare che quando mi sono specializzato mi sembravano dei miracoli, dei sogni, oggi è realtà e sempre al servizio di tutti i nostri pazienti.